Il fatto di essere arrivati secondi non ci ha delusi in nessun modo perché alla fine noi le nostre vittorie ce le siamo prese all'interno del programma, abbiamo portato e abbiamo fatto delle esibizioni molto estreme che non ci aspettavamo neanche magari venissero capite e invece sono state, cioè sono andate benissimo come ad esempio quella della pole dance. Poi siamo arrivati fino alla finale quando mentre eravamo entrati eravamo quelli antipatici che non andavano tanto bene e invece siamo riusciti ad andare fino in fondo, quindi anche se siamo arrivati secondi e non abbiamo vinto non ci tocca, per noi il disco d'oro è ancora più importante che il premio di essere arrivati primi nella gara. Siamo contentissimi di come è andata, dall'inizio alla fine non cambieremmo neanche una nota di tutto quello che abbiamo fatto in questa edizione, abbiamo imparato tanto e usciamo cresciuti e con un grande obiettivo davanti ancora da rincorrere.